A testa alta è il titolo del nuovo calendario dell'esercito italiano che è stato presentato questa mattina a Cagliari nella sala biblioteca del Palazzo della Vallè. Un'opera editoriale storica realizzata per aprire una riflessione sul ruolo dell'esercito italiano a seguito dell'8 settembre 1943 e per ricordare l'ottantesimo anniversario di quegli eventi. L'opera editoriale vuole raccontare cosa accadde durante l'armistizio quando i soldati italiani, nonostante la situazione, continuarono a combattere per contrastare l'aggressione tedesca. L'acquisto dell'opera editoriale contribuirà a sostenere l'opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'esercito, alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. Riprendiamo dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia la tradizione ormai che è data da tanti anni della presentazione del calendario dell'esercito, che è uno straordinario strumento di comunicazione per noi e con il quale vogliamo comunicare e informare l'Italia, gli italiani soprattutto, con alcuni messaggi, con alcuni temi, quali sono i valori, gli ideali che ci animano al nostro agire quotidiano. Quindi con questo calendario vogliamo ripercorrere gli eventi di quelle settimane, di quei mesi che seguirono l'8 settembre, in un periodo abbastanza confuso di disorientamento generale, dove però l'esercito italiano con i suoi uomini sta per mantenere la barra dritta e combattere il nemico tedesco. Grazie. Grazie.